Si chiamano cold case in italiano casi freddi e si tratta di quei delitti le cui indagini non hanno portato a nessuna verità e che vengono riaperti anni dopo per cercare di trovare altri indizi attraverso l'utilizzo di nuove prove. È il caso dell'omicidio di Perpaolo Minguzzi avvenuto ad Alfonsine 31 anni fa, il cui corpo è stato riesumato mercoledì mattina nella speranza che i progressi in campo scientifico possano sciogliere l'enigma sulla morte di un ragazzo di soli 20 anni, carabiniere di leva e figlio di imprenditori agricoli. Tutto è inizio nella primavera del 1987, il 21 aprile per la precisione. Quella sera il giovane Minguzzi, dopo essere uscito con la propria fidanzata, viene prelevato da alcuni uomini che poche ore dopo chiamano la famiglia per chiedere un riscatto. Un classico caso di sequestro di persone come se ne vedevano molti qualche anno fa, salvo che qualcosa va storto e il sequestrato viene trovato senza vita pochi giorni dopo sulla riva del fiume, strangolato e legato ad un'inferiata. Per il delitto sono indagati tre uomini già in carcere per un altro sequestro finito male, avvenuto pochi mesi dopo nella stessa zona e che costò la vita all'appuntato Sebastiano Vetrano. Fino ad ora però non è stato possibile raccogliere altri elementi necessari per provare la loro colpevolezza. Questo è lo scopo delle nuove analisi sul corpo, che dopo la riesumazione è stato portato a Pavia per la nuova autopsia, obiettivo accertare le cause della morte, stabilire tempi e modi e soprattutto individuare tracce di DNA che potrebbero definitivamente incastrare i tre presunti assassini.